Ciao, benvenuti a questo webinar. Io sono Antonella Tubia, sono un'insegnante di tecnologia della scuola secondaria di primo grado e sono autrice per Fabri e per Rizzoli di FabLab, un libro di tecnologia per la scuola secondaria di primo grado. Da qualche anno faccio coding con i ragazzi e in questo webinar io vi racconterò un po' qual è stata la mia esperienza e le attività che ho fatto con loro. Essendo io da remoto abbiamo preferito registrare, pre-registrare la parte che vedrete adesso in maniera tale da prevenire eventuali problemi di connessione. Ci ritroviamo però alla fine della registrazione che durerà circa 50 minuti, anche meno, per rispondere, ritornerò live per rispondere ad eventuali vostre domande. Anzi, se vi vengono domande mentre ascoltate il video, mentre vedrete il video, potete anche già farmele così comincio a prepararmi. Niente, vi lascio al video, ci vediamo dopo con le vostre domande e buona visione. Coding Unplugged, programmare senza il computer. L'obiettivo di questo webinar è quello di condividere con voi l'esperienza che ho fatto nelle mie classi, nelle quali ho proposto il coding senza utilizzare strumenti informatici, in modo molto semplice. Nelle prime slide vi racconterò che cosa significa coding, qual è il significato di pensiero computazionale e quali siano gli sviluppi positivi nei nostri ragazzi. Contrariamente a quanto si pensa, pensiero computazionale e coding non sono utili soltanto a chi fa programmazione o agli informatici. Il pensiero computazionale crea un modo di pensare che è un po' utile a tutti noi. Ci aiuta in sostanza a concretizzare degli strumenti, per riuscire a concretizzare delle intuizioni che possiamo avere. Proprio perché è molto importante sviluppare il pensiero computazionale, soprattutto nei nostri ragazzi, sono nate a livello europeo, anche ovviamente italiano, diverse iniziative atte proprio a promuovere il pensiero computazionale e il coding nelle scuole. Una di queste iniziative è Code Week che si sta svolgendo proprio in questa settimana. In questa slide ho catturato proprio la home page di Code Week, il sito ufficiale di questa iniziativa e ho messo in luce a chi è rivolta appunto questa iniziativa e come potete vedere è rivolta sia agli insegnanti che agli studenti. Gli insegnanti hanno l'opportunità di fare della formazione gratuita, quindi di approcciarsi al pensiero computazionale e al coding. Hanno anche la possibilità di confrontarsi con colleghi di tutta Europa. Per quanto riguarda invece i ragazzi, anche loro hanno la possibilità appunto di sviluppare il loro pensiero critico, di avvicinarsi al pensiero computazionale e al coding e di sfidare altri ragazzi in altre scuole europee. Che cos'è il pensiero computazionale? Io vi ho qui riportato, l'essumendo, un po' il pensiero di Jeanette Wing che è una scienziata e docente di informatica del MIT. Lei dice riguarda la risoluzione dei problemi, la definizione di sistemi e la comprensione del comportamento umano attraverso i concetti fondamentali della scienza informatica. Altra definizione che lei dà. Riformula un problema apparentemente difficile in uno che sappiamo di essere in grado di risolvere, magari attraverso la riduzione, l'inclusione, la trasformazione o la simulazione. In sostanza il pensiero computazionale ci permette di utilizzare quelli che sono i principi dell'informatica per risolvere problemi anche nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, apparentemente molto difficili e ci permette di ridurli in sottoproblemi più semplici e quindi facilmente affrontabili e risolvibili. Coding letteralmente significa scrivere in codice. È un modo, è un sistema che ci insegna a ragionare in modo logico e come vi accennavo prima può essere considerata la palestra nella quale si sviluppa il pensiero computazionale. Anche il Miur parla di coding e di pensiero computazionale e dice che è essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di infrontare la società del futuro non da consumatrici passive e degnari di tecnologie e servizi ma di soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco ed attivamente partecipi al loro sviluppo. Questa di rendere i ragazzi di soggetti attivi della tecnologia e non passivi è molto sentita e non solo in Italia e in Europa ma un po' ovunque a livello mondiale. Questo stesso discorso l'aveva fatto anche al suo tempo Barack Obama dicendo com'è importante che appunto i ragazzi diventino sviluppatori di applicazioni quindi che sappiano essere attivi con la tecnologia piuttosto che subirla ed esserne passivi. E sempre secondo un Miur si tratta di competenze che sono necessarie per poter partecipare, influenzare e contribuire allo sviluppo democratico della società. Inoltre sviluppare appunto pensiero computazionale e coding ci allinea con tutti gli altri paesi più evoluti sia in Europa che nel mondo. E il coding invece? Il coding è un modo molto divertente per sviluppare pensiero computazionale in un contesto di gioco. Quindi è sì la palestra che ci permette di sviluppare pensiero computazionale ma di più ci permette di sviluppare pensiero computazionale proprio giocando. Insegni i valori della cooperazione e condivisione. Perché questo? Diciamo che il coding insegna che copiare non è per forza una cosa negativa. Mi è capitato l'anno scorso di fare scratch con i ragazzi e di sviluppare un gioco. Questo gioco aveva diversi... per riuscire a sviluppare questo gioco c'erano diversi tipi di difficoltà ed è capitato che i ragazzi si scambiassero parti di codice. Cioè chi superava un determinato problema poi condivideva con gli altri il proprio codice e si procedeva. Si procedeva verso la soluzione, insomma, finale, verso la soluzione e la realizzazione del gioco finale. E questo ha insegnato loro che non è sbagliato il copiare in se stesso. Nel senso che se il copiare è il risultato di una condivisione e poi si utilizza quello che si è copiato per andare oltre, magari ricondividere con gli altri i propri risultati, allora ha una valenza anche positiva. Quindi ha sviluppato in questa classe il senso appunto di cooperazione e condivisione. Primo che arrivava, scambiava e si procedeva. Consente anche di esprimere se stessa attraverso la creatività, di giocare, sperimentare senza paura di sbagliare. Anche questo è molto importante perché appunto programmare significa anche, come ha detto lo sviluppatore di Scratch, significa anche avere la possibilità di esprimersi attraverso la programmazione e quindi in maniera creativa anche di giocare ovviamente e di sperimentare senza paura di sbagliare. Perché? Perché ovviamente i ragazzi che non conoscono bene il coding procedono per tentativi e procedere per tentativi significa anche sbagliare, sbagliare spesso, però si rendono conto di come quell'errore che loro fanno in realtà non sia altro che un passo verso la soluzione del problema e quindi diciamo anche qui sperimentano come l'errore possa essere effettivamente positivo, oggettivamente positivo. Permette di imparare a creare con la tecnologia e non solo interagire con essa e questo l'abbiamo visto anche prima e imparare a programmare apre nuove opportunità per imparare altre cose. Esattamente come imparando l'italiano siamo in grado di leggere e scrivere, imparando a programmare possiamo costruire programmi per esprimere le nostre idee o le cose che abbiamo scoperto sul mondo. Queste sono parole di Mitch Resnick che non è altro che lo sviluppatore di Scratch. Ed è un po' quello che avevo detto prima, quindi la programmazione come una sorta di alfabetizzazione che ci permette di esprimerci. Comincio a fare coding a partire dall'algoritmo. Perché proprio dall'algoritmo? Perché è uno dei concetti base dell'informatica. Che cos'è? L'algoritmo è l'insieme di passaggi logici che conducono alla risoluzione di un problema. Quali sono le proprietà dell'algoritmo? Allora, innanzitutto questi passaggi logici che conducono alla risoluzione del problema devono essere elementari, ovvero atomici, quindi non devono essere scomponibili in sotto istruzioni. Facciamo un esempio. Se io per esempio dico un bambino prepara la tavola o metti i bicchieri in tavola meglio, questo che può sembrare un'istruzione elementare in realtà ne sottintende altre. Cioè il bambino per mettere i bicchieri in tavola deve aprire l'antina della credenza, deve prendere i bicchieri e deve portarli in tavola. Quindi questo passaggio non è né elementare né atomico. Il passaggio elementare sarebbe stato quello di dire apri l'antina, prendi il bicchiere, chiudi l'antina, porta il bicchiere in tavola. I passaggi devono essere molto chiari e non ambigui. Deve essere composto un algoritmo da un numero finito di passaggi. L'esecuzione dei passaggi deve avvenire in un tempo finito e deve portare ad un unico risultato. Allora abbiamo fatto conoscere ragazzi quali sono, che cosa è l'algoritmo e quali sono le sue proprietà. Ora io gli propongo un problema. Immaginate di dover di avere un robot e di dover istruire questo robot affinché prenda un'arancia e la sprema e ci versi in un bicchiere una spremuta d'arancia. Quali sono le istruzioni che dovremmo dare al robot perché riesca a fare questo? Ne parlo con i ragazzi quindi ne discutiamo assieme e proviamo a vedere quali sono le istruzioni da dare. Dopo averne discusso un pochino le scriviamo alla lavagna. Queste potrebbero essere le istruzioni cioè prendi l'arancia, taglia metà l'arancia, spremi l'arancia e versala poi nel bicchiere. Quindi se verifichiamo che l'algoritmo abbia tutte le caratteristiche proprio appunto dell'algoritmo e quindi decidiamo che questo algoritmo potrebbe andare bene. A questo punto gli dico ma ragazzi ma vi è mai capitato di aprire un'arancia e di trovarla insomma arcia secca quindi non adatta ad essere spremuta? Ovviamente è un'esperienza che un po' tutti abbiamo fatto nella nostra vita quindi ci sarà chi mi dirà di sì. E a questo punto allora gli dico pensate se dovesse capitare al nostro robot che istruzioni potremmo dare per evitare questo problema? E ne parliamo e quindi stiliamo poi un'altra successione di istruzioni. Queste che appunto vedete cioè prendi l'arancia, taglia metà l'arancia, controlla se le due parti sono integre. A questo punto potremmo avere una risposta vera o una risposta falsa. Nel caso in cui sia falsa che sono integre quindi sono parti da scartare, scarta l'arancia e vai al punto 1. Il punto 1 prevede che si prenda una nuova arancia. Se invece è vero, quindi le due parti sono integre, si va al punto successivo quindi spremi l'arancia e versa la spremuta nel bicchiere. Detto questo, risolto questo problema, ne pongo un altro e gli dico vabbè il nostro robot in questo caso spreme un'arancia. Parliamo invece di voler dare al robot più di un'arancia e di voler far sì che questo robot me le sprema tutte le arancia che gli propongo. Cosa si potrebbe dire? Anche qui briefing si discute insieme e poi insieme sempre si scrive un nuovo tipo di algoritmo e cioè controlla se c'è un'arancia. Se è falso vai al punto 13 quindi ti fermi. Se è vero vai al punto successivo e ripropongo un po' quello che era già stato. Quindi prendi l'arancia, taglia metà l'arancia, controlla se le due parti sono integre, falso scarta l'arancia e vai al punto 1, vero vai al punto successivo, quindi spremi l'arancia, versa la spremuta nel bicchiere e attenzione una volta versata la spremuta nel bicchiere si torna al punto 1 quindi a controllare se c'è un'arancia. Quando le arance sono finite al punto 1 risulterà che l'arancia non c'è e quindi ci si fermerà. Il robot si fermerà. In genere questo dello stilare delle istruzioni viene abbastanza spontaneo ai ragazzi e ho visto che se possono incontrare delle difficoltà a capire la definizione dell'algoritmo e a memorizzare magari quali sono le caratteristiche dell'algoritmo poi però con questi esempi sono molto veloci e capiscono molto in fretta e riescono anche a risolvere autonomamente i problemi. A questo punto io propongo loro un altro tipo di cosa cioè il diagramma di flusso e gli spiego che questo nuovo concetto che è uno schema che viene realizzato collegando tra loro diverse forme grafiche alle quali corrispondono diversi tipi di comando. Perché utilizzare il diagramma di flusso? Perché rende immediatamente evidente la struttura dell'algoritmo e il flusso dei dati all'interno del programma. Quindi illustro loro quali sono queste figure geometriche alle quali sono associati dei comandi e gliele faccio vedere. Quindi abbiamo il blocco iniziale che è un blocco che si mette proprio all'inizio dell'algoritmo, il blocco finale che va a chiudere l'algoritmo. Poi abbiamo il blocco di input o di output che serve perché identifica i dati in ingresso o quelli in uscita, dati in ingresso che ovviamente vanno poi elaborati e dati in uscita che invece sono quelli che la macchina ci restituisce elaborati. Quindi il blocco di elaborazione che corrisponde a un'attività che il calcolatore, il programma fa. Il blocco di controllo che invece rappresenta un'azione di controllo sul verificarsi o meno di una certa condizione. E propongo loro di fare il diagramma di flusso dell'algoritmo che abbiamo visto prima. Quindi se l'algoritmo era prendi un'arancia, taglia metà l'arancia, controlla le due parti, scarta e vai a punto 1, oppure se è vero vai a punto successivo, spremi l'arancia e va a essere spremuta nel bicchiere, l'algoritmo diventerà questo che vedete qui. Quindi blocco di inizio, input output, in questo caso input prendi un'arancia, elaborazione abbiamo taglia metà l'arancia, il blocco di controllo parti integre, se è falso scarto l'arancia e torno a prendere l'arancia. Se è vero, spremo l'arancia, la verso nel bicchiere e l'algoritmo è finito, bisogna mettere il blocco di fine. Quindi questo in genere appunto anche questo risulta molto chiaro ed immediato. A questo punto propongo loro un altro problema che loro sentono abbastanza vicino, soprattutto in prima. Ecco, forse non l'avevo specificato, questo tipo di attività di solito le faccio in prima con i ragazzi appunto appena arrivati alle elementari. Una delle difficoltà che questi ragazzi, penso lo sappiate, condividiate, trovano spesso quando arrivano alle scuole medie, è il fatto che si trovano con moltissime materie nuove e con l'incapacità a volte di prepararsi adeguatamente lo zaino. Quindi torna anche utile fargli riflettere su questo e fargli preparare un algoritmo nel quale si auto istruiscono su come preparare lo zaino. Anche qui si apre una discussione e alla fine questo potrebbe essere un possibile algoritmo, cioè apro il diario, prendo l'orario di domani, premetto questo, che quando si parla già sapendo quale potrebbe essere poi l'algoritmo che noi andiamo a stilare, io consiglio sempre loro di spuntare le materie, spuntare con una via a fianco a ogni materia quando inseriscono il relativo quaderno o libro, insomma il materiale all'interno dello zaino. Quindi se inserisco matematica, spunto la materia matematica. Alla luce di questo adesso si capisce l'algoritmo, cioè apro il diario, prendo l'orario di domani, leggo materia non spuntata, inserisco nello zaino il quaderno della materia, inserisco nello zaino il libro della materia e spunto la materia. Controllo se le materie non spuntate sono finite, quindi in sostanza guardo nel diario e vedo se ho spuntato tutto. Se è falso, quindi le materie non sono finite, vado al punto 3, leggo materia non spuntata. Se invece è vero, vado al punto successivo. Poniamo che sia falso e torno al 3, quindi leggo la materia non spuntata, inserisco nello zaino un quaderno libro e spunto la materia. Controllo di nuovo se le materie sono non spuntate e sono finite. Poniamo adesso che sia vero, vado al punto successivo, inserisco l'astuccio, la merenda, il diario e chiudo lo zaino. Di questo algoritmo faccio poi fare anche il diagramma di flusso e sposto sempre perché altrimenti non si legge. Ok, faccio fare il diagramma di flusso e lo faccio fare in maniera più creativa, nel senso gli faccio portare dei cartoncini colorati, un foglio A3 e disegniamo, ritagliamo i vari blocchetti e li incolliamo in questo A3. In questo modo poi loro possono avere effettivamente un materiale che in teoria hanno capito e sanno leggere e se lo possono appendere in camera e utilizzare nel momento in cui devono farsi lo zaino. Quindi dare anche loro un mezzo per poi essere più efficienti anche a scuola. Sì, lo guardiamo un attimo, comunque c'è il blocco di inizio e il blocco di fine, come ogni diagramma di flusso. Questi sono tutti i blocchi di elaborazione dati alla fine, quindi apro il diario, prendo orario di domani, leggo materia non spuntata, inserisco il libro della materia, inserisco il quaderno della materia, spunto la materia, vado al blocco di controllo, quindi le materie non spuntate sono finite, nel caso sia falso io ritorno a leggere la materia non spuntata, nel caso sia vero procedo con inserisco astuccio, merenda, di aria, chiudo lo zaino e poi si chiude anche il diagramma di flusso. Allora, con il diagramma di flusso e con gli algoritmi io mi fermo qui e procedo invece a far vedere ai ragazzi, a far conoscere i ragazzi quali sono le tre strutture fondamentali della programmazione. Le strutture fondamentali per risolvere un problema attraverso il coding sono la sequenza, l'iterazione o ciclo e la selezione. Anche queste le faccio vedere a loro una a una utilizzando anche proprio degli esempi pratici. Di solito porto a scuola dei mattoncini come quelli che vedete in foto e proprio con questi mattoncini proviamo a vedere queste tre strutture. La prima che affrontiamo è quella più semplice che è la sequenza. La sequenza non è altro che un insieme di istruzioni che vengono eseguite esattamente nell'ordine in cui sono scritte. Voi vedete che in realtà la sequenza è un tipo di struttura che i ragazzi hanno già affrontato facendo l'algoritmo o il diagramma di flusso e quindi che già conoscono non sapevano semplicemente che si chiamasse sequenza. Facciamo un esempio. Pensate di dover istruire un robot perché costruisca un muro posizionando tre mattoncini sopra quello già presente rispettando un ordine preciso. Prima il verde poi il blu quindi il rosa. Le istruzioni che questo robot, questo braccio meccanico dovrebbe eseguire sono le seguenti. Prendi il mattoncino verde posizionano sopra quello presente. Prendi il mattoncino blu posizionano sopra quello verde. Prendi il mattoncino rosa posizionano sopra quello blu. Quindi abbiamo le nostre sequenze. Siamo riusciti a far costruire al braccio meccanico il nostro muro. Per quanto riguarda invece, aspettate che sposto, che è qua da fastidio, spostiamo di qua. Per quanto riguarda invece l'iterazione o ciclo, quale potrebbe essere, no scusate, innanzitutto che cos'è? Non è altro che la ripetizione di un blocco di istruzioni per un certo numero di volte o finché si verifica una determinata condizione. È utile per semplificare il programma e ridurre il numero di istruzioni scritte. Pongo loro un altro problema. Gli dico pensiamo di dover costruire il muro utilizzando dieci mattoncini di colore qualsiasi e posizionando questi dieci mattoncini sopra quello già presente. Quindi proviamo a farlo utilizzando la sequenza. Prendi un mattoncino, posizionano sopra quello presente. Prendi un mattoncino, posizionano sopra quello presente. E così via via, fino a che i mattoncini presi sono proprio dieci, come volevamo. A questo punto gli dico, ma per semplificare questa serie di ordini e di istruzioni che sono sempre uguali, cosa potremmo fare? Potremmo semplicemente dirgli, ripeti dieci volte, prendi un mattoncino e posizionano sopra il precedente. Si può anche provare a fare e materialmente si vede che non cambia assolutamente nulla. Questa è l'iterazione o ciclo, quindi una struttura che permette di accorciare la struttura che abbiamo visto prima. Qui abbiamo visto che la ripetizione viene programmata per un numero finito di volte. In questo caso invece, se noi volessimo costruire un muro usando tutti i mattoncini disponibili, la struttura potrebbe avere queste caratteristiche, cioè finché ci sono mattoncini, prendi un mattoncino e posizionano sopra il precedente. Quindi noi abbiamo detto al nostro robot di ripetere una determinata azione, fin tanto che non si verifica una determinata condizione. La condizione che si deve verificare in questo caso è che ci siano mattoncini. Quindi finché ci sono i mattoncini, lui ripete questa cosa. Quando i mattoncini finiscono, il robot si ferma. L'altra struttura, la terza e ultima, che vedo con i ragazzi è la selezione. La selezione permette di far prendere decisioni al computer in base alle situazioni che si vengono a creare nel corso dello svolcimento di un programma. Ad esempio, pensiamo di dover distruire il robot perché utilizzi solo mattoncini bianchi per costruire il muro e scarti quelli di altri colori. Quindi questa volta solo mattoncini bianchi e deve scartare gli altri colori. Quali sono le istruzioni che si dovrebbero dare a questo robot? Dovremo dirgli se il mattoncino è bianco posizionano, altrimenti scartano. Quindi in maniera molto semplice io faccio prendere una decisione al computer in base alla situazione, cioè in base al colore che lui ha selezionato di mattoncino. Scusate che sono andata avanti. Ok. Fate conoscere ragazzi queste tre strutture, quindi sequenza, iterazione o ciclo e selezione. Noi cominciamo a metterle in pratica e ad utilizzare queste sequenze utilizzando un gioco, Codi Robi. È un gioco, o meglio, un kit per diventare giochi, progettato e realizzato da Alessandro Bogliolo. Ed è uno strumento molto utile perché permette ai ragazzi di prendere confidenza appunto con il coding e anche con queste strutture della programmazione. È uno strumento di codine unplugged in quanto non utilizza strumenti informatici ma appunto solo solo carte, carte da gioco e è formato da diversi elementi. Allora innanzitutto si può tranquillamente si può tranquillamente o acquistare o scaricando i pdf stampare a casa propria o in copisteria insomma. Quindi anche con una una spesa veramente molto molto bassa. Il kit è composto da che cosa? Da un foglio con che è questo che vedete con una scacchiera e delle caselline grigie che sono quelle che poi ritagliate a una a una ci permettono di individuare i percorsi. C'è un foglio con la scatola, la scatolina per conservare le carte, anche questo va stampata, ritagliata, incollata e ci sono poi le pedine che vengono utilizzate per giocare. Queste pedine colorate sono Roby, si chiamano appunto Roby. Ci sono poi due foglie di carte. Aspettate che sposto sempre un pochino. Ci sono due foglie con carte di movimento verde nelle quali è disegnato una freccia bianca e il significato di queste carte è vai avanti. C'è la possibilità di stampare come vedete anche il retro delle carte per renderle più carine. Io in realtà non l'ho fatto, adesso ve le faccio vedere le mie cartine, che sono appunto queste. Io le ho stampate su un cartoncino pesante, pesante, mi pare sia 200 grammi e di colore giallino, non so se si nota. Sì, sono molto belle lo stesso. Le ho fatte poi ritagliare, ho stampato mi pare su 20 kit, ho stampato 20 kit e le ho fatti poi ritagliare la scuola dei ragazzi. In mezz'oretta, una classe me le ha tagliate, ha anche fatto la scatolina, che nel mio caso era un po' diversa da quella che vedete voi. L'ho stampata qualche anno fa, ed era questa. Ok, poi ci sono un foglio con carte di movimento verdi, che voi vedete in basso, e carte gialle, questa significa, questa carta gialla significa gira a sinistra. E anche qui le solite schede per stampare il retro. Un foglio con carte di movimento verdi ancora, e rosse questa volta, con la freccia opposta, quindi gira a destra. Ci sono poi sei carte speciali, ripeti, che sono queste, qui ne vedete solo quattro perché poi c'è un altro foglio. Sei carte speciali selezione, che sono queste qui, e otto quadratini con pallino nero, questi, che servono sono delle unità di conteggio, poi vedremo come utilizzarle. Sei sensori, che sono questi qui, e anche questi vedremo come verranno utilizzati, e questi pallini colorati che sono il target, l'obiettivo, il dove devo arrivare. Vi faccio un attimo vedere le varie carte, una a una. Allora, carta verde, che è proprio questa, così vedete anche la dimensione reale, è la carta di movimento. Possono essere accostate da sinistra verso destra a formare sequenze logiche di comandi, quindi se io ho quattro carte verdi affiancate, i comandi che io do sono vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Sul bordo di ciascuna carta, come potete vedere, sono presenti degli intagli, che facilitano l'incastro corretto delle carte. Poi quando andiamo a giocare si vede subito come funziona. È fondamentale che le istruzioni impartite a Roby siano chiare e comprensibili. Quindi anche qui ritorniamo a quello che avevamo già detto per quanto riguardava l'algoritmo. Per evitare ambiguità e conseguenti errori, bisogna osservare queste regole. Allora, gli spostamenti di Roby sulla scacchiera si effettuano assumendo il suo punto di vista. Quindi, quando noi piazziamo la nostra pedina di Roby e diciamo avanti, è avanti dal suo punto di vista. La carta verde, che significa avanti, sposterà Roby in avanti di una sola casella. Quindi quando Roby va avanti, va avanti di una sola casella. La carta gialla, girati a sinistra, e quella rossa, girati a destra, permettono a Roby di girarsi di 90 gradi a sinistra o di 90 gradi a destra, ma rimanendo fermo nella casella in cui si trova. Quindi, stabilite queste regole anche con i ragazzi, che siano molto chiare, si può cominciare ad usare il kit e a giocare. Come organizzo il gioco? Io distribuisco un kit in maniera tale che ogni due persone ce ne sia uno. Quindi, a coppie, utilizzano un kit. Come adesso vedrete, io ripropongo loro proprio le strutture di base, quindi sequenza, iterazione o ciclo e selezione. Le ripropongo sfidandoli, nel senso che io, o proiettando la lim, questa immagine qui, o se non avete la lim, anche disegnandola alla lavagna, si sta molto presto e veloce da fare, li sfido a mettere in sequenza le carte per far sì che la loro pedina, che qui è visualizzata in giallo, raggiunga l'obiettivo, che è quello appunto evidenziato dal pallino rosso o giallo, dipende, è uguale. Il significato è lo stesso. E quindi, appunto, giocando, facendoli sfidare tra di loro, perché alla fine chi riesce per prima a trovare la soluzione, ovviamente, ha vinto, rivediamo tutte le sequenze che abbiamo presentato, tutte le, scusate, strutture che abbiamo visto prima. La prima, appunto, è la sequenza, l'attività 1. Gli dico, spostare Roby lungo il percorso individuato dalle mattonelle grigie, utilizzando il minor numero possibile di carte. Quali sono, quindi, le sequenze di comandi da fare? Avanti, avanti, avanti e avanti. Eccolo qui. Roby si dovrà spostare rispondendo ai comandi dati da queste quattro carte. Vi faccio notare come all'intaglio, alla sporgenza di una carta, corrisponde all'intaglio sulla carta successiva. La seconda attività è questa. Sempre sequenza, cambia però il percorso. Quindi sposta Roby lungo questo percorso affinché raggiunga, appunto, il suo target, utilizzando il numero minimo di carte. In questo caso, Roby cosa dovrà fare? Avanti, avanti, gira a sinistra, avanti, avanti, avanti. E ecco la sequenza di carte che dovranno essere, appunto, posizionate sopra il banco. Passiamo poi all'interazione. Quindi introduciamo la carta che ci permette di eseguire questa struttura, quindi l'interazione. Spiego loro che in base al numero di pallini neri che loro mettono qui sopra, l'azione verrà ripetuta. tante volte, quanto appunto saranno questi pallini neri, questi quadratini con pallino nero, posizionati sopra. Per esempio, questo primo percorso che abbiamo visto, nel quale avevamo allineato le quattro carte verdi, può essere tranquillamente sostituito da questo. Cioè, carta azzurra con quattro cartine bianche, con pallino nero e carta verde. Anche qui vi faccio notare come l'intaglio della carta azzurra corrisponda alla rientranza nella carta verde e come ci sia un gradino. Cioè, non sono più allineate così le carte, ma vedete che c'è una carta che comanda e una carta sotto. Nel senso, la carta che comanda dice ripeti quattro volte che cosa avanti. Anche l'attività A2 che abbiamo fatto, quindi con questo percorso particolare, può essere cambiata introducendo le carte iterazione. Quindi, invece di mettere due carte verdi, io dico ripeti due volte avanti. Vedete che la carta avanti è più bassa rispetto alla carta azzurra. Poi girati a sinistra, non è un'azione che va ripetuta, quindi, perché vedete che torna su. Girati a sinistra e ripeti tre volte, in questo caso, avanti. Quindi i comandi che vanno ripetuti stanno più in basso rispetto al livello delle altre carte. Nel caso invece di ciclo indefinito, quindi nel caso in cui voglio che venga ripetuta un'azione non per un numero prestabilito di volte, ma fin tanto che non si verificano in determinata situazione, io utilizzerò le carte con i segnaposti giallorossi. Per esempio, invece di dirgli ripeti quattro volte mettendo i quattro quadratini sopra, posso dirgli ripeti fin tanto che non arrivi al pallino rosso l'azione avanti. Quindi Roby, fin tanto che non raggiunge il suo obiettivo, ripete questa azione di andare avanti. Codiroby, la selezione. Allora, la struttura di selezione, come abbiamo visto prima, permette di far prendere delle decisioni al computer a verificarsi di determinate condizioni. La carta della struttura selezione è questa azzurra con il punto di domanda. Vedete poi rappresentato qui Roby e in questi tre spazi verranno posizionati in sensori a seconda delle necessità. Poi lo vediamo meglio nell'esempio. Con la carta selezione viene anche per la selezione utilizzata anche questa carta col punto di domanda rovesciato che permette di introdurre un blocco alternativo di azioni da eseguire solo se la condizione è falsa. Questa carta identifica appunto l'inizio di questo blocco di azioni da eseguire solo e soltanto quando la condizione sia falsa. Sicuramente lo capirete meglio con l'esempio. Allora, noi vogliamo che Roby si sposti fino a raggiungere il pallino giallo utilizzando solo ovviamente il percorso di mattonelle grigie. Quindi, la sequenza di comandi quale potrebbe essere? Finché non tocchi il pallino giallo ripeti avanti. Se c'è percorso a sinistra girati a sinistra. Allora, cosa farà Roby? Dovrà andare avanti sentire se ha il percorso a sinistra e nel caso ce l'abbia girarsi a sinistra. Proviamo a vedere. Allora, noi gli diciamo ripeti fin tanto che non arrivi fin tanto che non arrivi all'obiettivo quindi al pallino giallo avanti e vedete che il sensore è posizionato alla sinistra di Roby quindi vai avanti poi se senti percorso a sinistra ti gira a sinistra. Quindi Roby cosa fa? Va avanti sente se hai percorso a sinistra in questo caso non ce l'ha quindi ritorna a fare che cosa? Avanti. Sente si trova posizionato qui si sente se hai percorso a sinistra in questo caso il percorso a sinistra ce l'ha quindi si gira a sinistra. Ok? Si gira a sinistra e poi ritorna a fare che cosa? Avanti. Ripete l'azione avanti ritorna a sentire se hai percorso a sinistra ma non ce l'ha quindi va ulteriormente avanti e arriva all'obiettivo. Roby ha quindi raggiunto l'obiettivo ed ha concluso il suo percorso. Nella attività seguente invece viene proposto un percorso ancora più complicato. La sequenza di comandi è quella che vedete qui ma che può essere e forse più chiara visualizzata con le carte. Eccola qui. Allora Roby Roby deve percorrere questo appunto percorso di mattonelle grigie e deve arrivare al pallino giallo. Cosa gli diciamo? Ripeti fin tanto che non arrivi al pallino giallo. Allora cosa deve ripetere? Tutte queste azioni perché vedete che sono posizionate sotto rispetto al livello della carta di iterazione. Senti se hai percorso avanti se hai percorso avanti vai avanti ecco che viene introdotta l'altra carta la carta altrimenti altrimenti senti se hai percorso a destra se hai percorso a destra gira a destra altrimenti ancora gira a sinistra eseguite queste azioni ritorna da capo. Allora cosa fa Roby? Fa il primo passo sente se hai percorso avanti ha percorso avanti va avanti non eseguirà questo blocco di azioni qui perché abbiamo detto che questo blocco di azioni si va ad eseguire esclusivamente nel momento in cui non sia verificata questa prima condizione quindi Roby fin tanto che è verificata la condizione percorso avanti semplicemente ripeterà l'azione avanti arrivato qui lui verifica se hai percorso avanti e qui non ce l'ha più il percorso avanti di conseguenza va al blocco successivo altrimenti altrimenti sente se hai percorso a destra e gira a destra Roby sente se hai percorso a destra e in questo caso ce l'ha quindi si ruota a destra non andrà ad eseguire quindi questo blocco di azioni queste ultime due carte perché lui ce l'ha il percorso a destra quindi arrivato qui ritorna all'inizio quindi sente se hai percorso avanti e va avanti e si trova qui arrivato qui sentirà ancora se hai percorso avanti ma in questo caso non ce l'ha quindi cosa fa va al blocco successivo altrimenti senti se hai percorso a destra ma arrivato qui il percorso a destra non ce l'ha perché sarebbe da questa parte quindi va al blocco successivo di carte sente se hai percorso a sinistra si ce l'ha si gira a sinistra e si dipette da capo senti se hai percorso avanti senti se hai percorso avanti e qui altrimenti visto che percorso avanti non c'è più senti se hai percorso a destra in questo caso Robby non ha percorso a destra sì scusate in questo caso Robby ha percorso a destra quindi si ruoterà a destra e andrà avanti e così fino alla fine fino adesso quello che io ho proposto loro è un gioco di sfida quindi di sfida di tutti i vari gruppetti nel risolvere delle cose dei percorsi che ero io a proporre i giochi che vedrete adesso invece sono tre giochi in cui loro sono chiamati a giocare tra di loro quindi le due coppie scusate quindi i due ragazzi che avevo messo a coppia con un kit formeranno una squadra che si andrà a sfidare con un'altra squadra sempre formata da due componenti anche questi giochi non sono giochi che ho inventato io sono giochi che sono stati proposti proprio da Alessandro Bogliolo e c'è da dire che però come dice lui se ne possono inventare anche di altri quindi una volta prese di mistichezza con il gioco se ne possono realizzare altri quindi si può lasciare proprio liberi i ragazzi di essere creativi e di crearseli da solo nuovi giochi nuove sfide il primo che vi propongo è The Race numero di giocatori 4 massimo ed è una cosa che ho fatto io però perché poi non si potete vedere di gestirvi voi come volete la cosa due per squadra come si gioca una squadra crea percorso posizionando sulla scacchiera le mattonelle grigie quindi i percorsi che facevo io li fa una squadra e posizionando il pallino colorato sull'obiettivo che Roby deve raggiungere le carte vengono separate per genere e le vedete posizionate accanto alla scacchiera al via ogni squadra cerca di realizzare correttamente il percorso la prima che finisce la prima squadra che finisce va a toccare il triangolino verde come se fosse il bus di fine il pulsante di fine quindi si va a verificare i vari percorsi si permette all'altra squadra di finire si vanno a verificare i percorsi e se chi ha finito per primo l'ha fatto in maniera corretta ha vinto altrimenti vince l'altra squadra se l'ha realizzato anche se con più tempo però in maniera corretta io qui vi propongo adesso il video del gioco così potete vedere anche praticamente come viene allora ci sono due giocatori giocatore 1 e giocatore 2 ok il giocatore 1 ha già preparato il percorso da fare ora il mio via ora il mio via si parte 3 2 1 via 1 1 2 5 8 8 9 10 13 15 15 15 16 16 16 16 16 18 19 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 21 22 23 23 25 26 27 28 28 29 29 22 23 29 21 22 22 23 23 23 24 23 24 25 26 25 26 23 24 25 25 25 26 25 25 26 26 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il terzo e ultimo gioco che vi propongo è Cody Robby, sì scusate Snake, anche qui le due squadre. Non so se avete presente Snake che si giocava una volta con i vecchi telefonini. Lo scopo del gioco è formare un serpente quanto più lungo possibile senza andare a sbattere contro i bordi. Aspettate che sposto perché effettivamente qui adesso do fastidio. Ok, quindi ad ogni turno ogni squadra posiziona la propria pedina in un angolo del tabellone e riceve tre carte. Ad ogni turno le squadre possono utilizzare una sola carta per muovere la pedina e devono poi ripescarne una dal mazzo. Quando la pedina si muove, vedete questa si è mossa due volte, lascia dietro di sé delle mattonelle grigie, è una sorta di scia. A parte del gioco chi è costretto ad uscire dalla scacchiera può posizionarsi sulla scia, quindi chi va a sbattere contro i bordi della scacchiera in sostanza o per muoversi è costretto ad andare contro la propria scia. Anche qui vi faccio vedere il video. Spostiamo di nuovo qui qua. Vi faccio vedere il video così si capisce meglio. Spostiamo di nuovo qui. Ok, detto questo io ho concluso, spero vi sia interessato e lasciamo spazio adesso alle domande. Eccomi qua. Mentre andava il video ho visto che sono arrivate parecchie domande, vedo di riuscire a rispondere quante più possibile. Allora, prima domanda. Quante ho di impegni per fare in classe quello che ci hai mostrato? Allora, diciamo che la prima parte, quindi quella che riguarda l'algoritmo e fare il diagramma di flusso fino a circa all'esempio dell'arancia compreso va via circa un'ora. Un'ora va sicura. Poi, l'ora successiva, di solito mai nello stesso giorno, magari il giorno dopo, quando li rivedo, proseguo con altri esempi di algoritmo e di diagramma di flusso. Per esempio quello che avete visto dello zaino, ma se ne possono fare anche altri. E anche lì un'ora va di certo. Poi, se desiderate fare anche il cartellone come avevo proposto, allora anche lì dovete calcolare che per disegnare, ritagliare il cartoncino, per sistemarlo nel cartellone, anche lì un'altra ora sicura. Quindi questa prima parte di algoritmo e diagramma di flusso impiega circa tre ore. Poi un'ora la dedico alla spiegazione delle strutture, quindi di sequenza, di iterazione ciclo e di selezione, e almeno due ore a Codirobi. Quindi, di solito io spiego molto velocemente le regole di Codirobi, circa dieci minuti, quarto d'ora massimo, insomma, dedicato a questo. E poi cominciamo subito a giocare. Ovviamente nella prima ora si gioca, come vi ho fatto vedere, quindi io alla lavagna e i ragazzini cercano di indovinare i vari percorsi. E poi un'altra ora la dedico invece ai giochi a squadre che fanno tra di loro. Sì, quindi un totale circa di sei ore. Poi dipende anche dalla risposta della classe, ovviamente. Ci sono classi più intuitive, ci sono classi invece dove si fa un po' più di fatica, però una media di sei ore, secondo me, è necessaria, insomma, da considerare, da impiegare per fare questo tipo di lavoro. Poi mi chiedono, ti fermi all'unplugged o c'è anche un seguito? Come ho accennato anche nel video, di solito poi nelle scuole in cui si può fare, che hanno a disposizione dei mezzi per farlo, quindi computer in sostanza, segue a questa attività un'attività di coding con i computer, di solito faccio scratch appunto. Dove trovo il kit di Codi Robi da stampare? Allora, il kit da stampare lo trovi in pdf sul sito che si chiama codewick.it Ed è molto interessante perché oltre a darti tutto, tutti i pdf, mettere a disposizione tutti i pdf per stampare il kit, ti danno anche le spiegazioni per eseguire una stampa corretta. Quindi, addirittura su che supporto stampare, consigliano di stampare sempre a colori e danno le varie spiegazioni anche di come tagliare le carte, di come piegare e fare la statolina per contenere le carte. E ci sono anche video tutorial che aiutano a fare questo in maniera corretta, quindi sì, secondo me guardando appunto questo sito si è in grado di fare tutto. Altra domanda interessante. So che esistono scacchiere giganti di Codi Robi, le hai mai usate? Allora, io non le ho mai usate personalmente. E le hanno usate, le ho viste usare in una scuola primaria forse, sì, in una scuola primaria. E le usano anche solo a scuola di infanzia, sono più adatte, diciamo, a quest'ordine di scuola, scuola primaria, scuola dell'infanzia. Per la stampa si può vedere il sito codemook.org, si scrive codemook.org, e lì c'è tutto, insomma, per la stampa. Anche su questo sito consigliano appunto l'uso in quest'ordine di scuola. E' un uso fatto comunitario, nel senso non un kit ogni due persone, ma un kit per tutta la classe. Ho visto usare anche i bambini come pedine, nel senso che invece di Codi Robi, quando si usano queste scacchiere giganti, poi si usano i bambini come delle pedine. So che sia la primaria che l'infanzia è molto utile, perché aiuta i ragazzi anche a capire destra, sinistra, avanti, indietro. Quindi concetti che per loro non sono così chiari come lo sono poi per i ragazzi alla secondaria. E quindi, insomma, rafforzano questi concetti che sono utili per loro, insomma. Poi, ah, ecco. Il mio dubbio è che Codi Robi sia un gioco più adatto alla scuola primaria che secondaria. Come reagiscono i ragazzi quando propone loro il gioco? Allora, era un dubbio che avevo anch'io prima di fare, di proporlo a loro. In realtà, io non ho mai avuto risposte negative, nel senso non hanno mai preso sotto gamba questo tipo di gioco, anzi. Anche nelle classi un po' più vivaci è sempre stato preso molto seriamente, per carità, sempre un gioco e si sono divertiti. Però l'hanno fatto seriamente con spirito proprio di voglio vincere, voglio essere il primo. Quindi non ho incontrato nessun tipo di delisione, insomma, nei confronti di questo gioco. Io l'ho visto bene, dirò di più, che vi ho detto che di solito lo propongo alla prima media, nelle prime medie, insomma, le classi prime. Ci sono state scuole in cui l'ho proposto anche in seconda e in terza perché arrivavo e non avevano ancora visto nulla di coding, quindi l'ho proposto anche a loro, come sempre un po' titubante proprio per questo motivo, invece anche nelle terze, che ormai sono ragazzi fatti, ha funzionato bene. Sei riuscita ad inventare con i ragazzi nuovi giochi con Codi Robi? Sì, ho provato anche questo. L'ho fatto in una scuola nella quale non avevano possibilità di usare i computer, quindi i sistemi informatici. Abbiamo quindi prolungato questa attività di coding, ho prolungato questa attività di coding proponendo loro di inventare nuovi giochi e sinceramente mi hanno stupito, nel senso che hanno una fantasia e un'intuizione che noi non abbiamo, secondo me. Sono riusciti bene, hanno proposto cose molto interessanti e anche lì sempre con la sfida, cioè cercare di fare il prodotto migliore rispetto agli altri. Allora, hai mai usato algoritmi, diagrammi di flusso per dar loro una procedura corretta per il disegno tecnico? Potrebbe essere utile secondo te? Sì, dunque. Se per il disegno tecnico intendi dire, per esempio, le costruzioni geometriche, effettivamente potrebbero essere utili, non l'ho ancora mai usato, e potrebbero essere utili se tu pensi a, se voi pensate insomma al libro di disegno tecnico, in genere tutti hanno delle procedure da seguire per riuscire a disegnare in maniera corretta le costruzioni geometriche. Quindi, trasformare poi queste istruzioni che i libri di disegno danno in algoritmi o diagrammi di flusso, secondo me, è un'operazione abbastanza intuitiva, semplice, che però ha una sua utilità. Io l'ho utilizzato in maniera diversa, nel senso che in alcune prime l'ho utilizzato per dar loro una procedura di come affrontare il disegno tecnico. Quindi, le regole basilali, insomma, foglio pulito, matita temperata, gomma pulita, queste cose qui, che servono proprio per affrontare all'inizio il disegno tecnico. Collegata a questa domanda, c'è una domanda di un insegnante di matematica di una scuola alberghiera, che mi chiede se secondo lui, secondo me, può essere utile anche per i suoi studenti. Secondo me sì, nel senso che il pensiero computazionale e il coding sono trasversali a tutti i tipi di discipline, di attività, e insegnano a sviluppare un certo modo di ragionare, quindi è utile in tutti i campi sicuramente, è sicuramente molto utile nel campo della matematica, quindi indipendentemente dal fatto che sia una scuola alberghiera o una scuola media, secondo me è utile un po' a tutti, ecco. Mi chiedono, allora, ci puoi indicare dei siti di supporto per questo tipo di attività? Sono quelli che ho citato prima, codemook.org, che scrive sempre codemook, codwick, cod.org, e poi ci sono degli store online, che magari questo non l'ho detto, nei quali si possono comprare i kit di Codirabbi già pronti, non costano molto, e se non avete voglia di stamparli, di tagliarli, a parte che lo fate di tagliare i ragazzi a scuola, però se non avete voglia di stamparli e di tagliare, insomma, ci sono i kit già pronti. All'altra domanda, questa riguarda però Scratch, come è stata svolta l'attività con Scratch sullo scambio di linee di codice? Quindi fa riferimento all'esempio che avevo fatto all'inizio. Io sarò molto sintetica nel rispondere a questa domanda, due cose proprio. Allora, il progetto che io ho fatto con loro l'ho preso da un sito che si chiama microninja.me e propone dei progetti per Scratch in italiano. Noi siamo partiti da uno di questi progetti che proponeva questo sito e li abbiamo poi sviluppati ulteriormente. Lo scambio di linee di codice è avvenuto naturalmente tra di loro. Cioè non li ho spronati io a fare questo, è una cosa che hanno cominciato a fare e che nel momento in cui mi sono accorta stavano facendo ho supportato e ho promosso. Cioè fate bene, anzi, il primo che arriva comunichi e ci scambiamo il codice così riusciamo a procedere più velocemente verso la soluzione. So che poi se li sono scambiati anche da casa, insomma, però sì, non è un'attività che ho strutturato io in questo modo, è nata da sola. Com'è possibile trasportare l'algoritmo nella scuola dell'infanzia? E premettendo che io non ho molta esperienza nella scuola dell'infanzia, posso pensare all'esperienza che hanno fatto i miei figli nella scuola dell'infanzia e posso pensare per esempio a dei cartelloni con una serie di istruzioni disegnate ovviamente perché non sanno leggere per ricordare delle azioni che i bambini devono fare. Può essere ad esempio, che ne so, quando devo andare in mensa, prima di andare in mensa dovranno, credo, lavarsi le mani, farla pipì, lavarsi le mani, non so, prendere la bavaglia dal sacchettino loro, mettersi in fila, cioè cercare di rendere appunto queste procedure che loro devono seguire, trasformarle poi in un algoritmo grafico ovviamente, quindi disegnando queste azioni che potrebbero fare. Siamo già fuori tempo, ultime due domande, allora, no, ultimo domande qua, valuti i ragazzi su questi argomenti e in che modo? Sì, i ragazzi li valuto ovviamente sul lavoro che faccio, per quanto riguarda questa parte di Codi Unplugged, io faccio di solito dei test per verificare se hanno compreso quali sono le caratteristiche degli algoritmi, dei diagrammi di flusso, quali sono, insomma, come devono essere fatti in sostanza. Propongo dei problemi da risolvere con algoritmo, i diagrammi di flusso e per quanto riguarda Codi Roby propongo loro dei percorsi e gli chiedo di risolverli con l'utilizzo di minor carte possibili. Quindi, o le ho fatte con fotocopie, fate voi le sequenze di carte e poi dite di scegliere quella giusta oppure le ho fatte fare proprio fisicamente, insomma. Ok, aspettate che vediamo se c'è qualcosa altro. Sì, è molto interessante. Per me è prima volta se tutta la classe gioca a coppia o piccole squadre come gestire e controllare il risultato del gioco lo fanno loro, grazie. Allora, per quanto riguarda la parte in cui io sono alla lavagna loro sono seduti a fare le loro sequenze di carte passo io a controllare nel senso il primo che prima coppia che finisce alza la mano vado lì, controllo e poi passo insomma, controllo un po' tutti tanto insomma 20-25 ragazzini sono 12 postazioni da controllare si sta anche presto. per quanto invece riguarda il gioco a squadre no, per forza si giocano loro poi insomma se ci sono se ci sono problemi intervengo però in genere insomma se la cavano abbastanza bene pensi si possa proporre alla primaria? Certo domande ce ne sono ancora molte però purtroppo il nostro tempo è scaduto è stato un piacere e niente spero vi sia interessato e arrivederci buona serata grazie